buongiorno amici bentornati ben trovati in questo nuovo video oggi vi porto un prodottino che è veramente veramente utile se non addirittura indispensabile anzi per me indispensabile per chiunque abbia un macbook o comunque un prodotto apple anche come un ipad con porta usb c questo prodottino è della novo è una usb c 6 port aluminium hub è un hub che consente con queste sue porte di fare tutto quello che si può e si vuole con prodotti apple precedenti agli ultimi macbook e presumo che tanti li abbiano e non tutti vogliono cambiare un computer soltanto per avere semplicemente delle prese in più come lsd eccetera hdmi eccetera eccetera questo risolve i problemi e a differenza di molti altri che ho provato funziona ma lo andiamo a vedere nel dettaglio dopo la sigla eccoci qua dopo la sigla andiamo un po vedere nel dettaglio questo hub che mi hanno mandato della novo io vabbè ora facciamo un unboxing ma in realtà lo sto usando da parecchi giorni e devo essere onesto uso mac da tantissimo gli ultimi mac come il mio macbook pro ha soltanto la porta usb c due per esattezza e di conseguenza tutte le altre porte adattatori come la sd della camera che sto usando per fare i video ci vuole un adattatore per vederli questi adattatori spesso non funzionano bene o dan problematica meno a me cosa è successo così con tanti che ne avevo e sono anche ingombranti questo ora andiamo a vederlo nel dettaglio guardate la cosa bella è già soltanto che la dimensione intanto la qualità è ottima come vedete e sentite praticamente mettiamo vicino al microfono alluminio fatto veramente bene rifinito bene un bel cavo spesso come vedete veramente veramente valido intorno avanti nella parte in cima scusate troviamo la porta hdmi di lato troviamo un usb c che è per la ricarica un led due porte usb 3 una un lettore di micro sd è un lettore di sd tutto quello che ci serve per poter lavorare tranquillamente sia con il mac che con l'ipad per dire attacchiamo alla porta usb c dell'ipad e possiamo vedere tutto quello che metteremo qua di lato se vogliamo attaccare l'ipad con l'hdmi on monitor possiamo se vogliamo leggere una chiavetta nell'ipad possiamo trasferire delle foto tutto in maniera assolutamente comoda e piccolo compatto come potete vedere è veramente guardatelo vicino ad esempio alle airpods potete capire chiaramente la dimensione nonostante io l'abbia già provato con ricarica inserita sd in lettura per trasferire dei file sul mac e hdmi per attaccarlo monitor esterno non si è mai scaldato così tanto ovvio un po tiepido è diventato ma non una roba così esagerata vi lascio il link descrizione secondo me è veramente un prodotto valido se vi può interessare e ci vediamo prossimo video